L'arcivescovo di Sasseri, Monsignor Gianfranco Saba, ha colto per la seconda volta dal suo ingresso alla guida dell'Arcidiocesi, oltre 200 ospiti per il pranzo di Natale. Anche in questa occasione l'arcivescovo ha voluto aprire le porte della sua casa ad una insolita famiglia, quella che in tutta la città normalmente usufruisce dei servizi di assistenza alle povertà estreme coordinati dalla Caritas Diocesana. Il momento di fraternità non è stato solo una mensa dall'insolita collocazione, ha commentato il Vescovo, ma un'esperienza di condivisione che ha coinvolto con messali appartenenti alle più diverse nazionalità del mondo, senza esclusione di popoli, culture o religioni. Intorno ad un passo complesso, semplice e abbondante, i partecipanti hanno potuto trascorrere alcune ore del giorno di Natale sentendosi in una famiglia allargata, che vive sin oltre soprattutto di incontri, scambi, amicizia, dialogo. Tutti gli ingredienti di una festa vera e di quella visione rapacificata di società che, suggerita dall'immagine del presepe, si spera possa diventare il vero dono di un Natale sempre più realizzato. La Chiesa di Sassari continua certamente il suo impegno in questa direzione, ha detto Monsignor Saba, promuovendo e spendendo le proprie risorse verso una prossimità all'uomo, a tutti gli uomini e donne che abitano il nostro territorio.